Dal primo gennaio sono entrate in vigore le nuove norme sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali. Per quanto riguarda in generale la discesa sulle piste da sci, l'obbligo del casco viene steso fino ai 18 anni, ma viene anche introdotto l'obbligo di avere una assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. Questo in quanto lasciatore è responsabile della condotta che tiene sulle piste da sci e deve tenere una velocità, un comportamento di prudenza e di attenzione adeguati alla propria capacità. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima. È vietato sciare in stato di ebrezza, in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche, con la possibilità di essere sottoposti all'etilometro. La nuova legge interviene anche sulle attività in ambiente innevato fuoripista. Secondo questa norma, sci alpinisti, sciatori, fuoripiste ed escursionisti, anche con le ciaspole, devono dotarsi di ARTVA, l'apparecchio di ricerca in valanga, pala e sonda da neve nel praticare tale attività, in particolare ambienti innevati laddove per le condizioni nivometologiche sussistano rischi di valanghe. In montagna, specie in inverno comunque, non bisognerebbe mai improvvisare, da ricordare che si è pur sempre in un ambiente naturale dove il rischio non potrà mai essere azzerato.